Acqua viva, che bel pubblico, ma veramente. Allora, vediamo, facciamo la prova del pubblico. Vediamo da questa parte, c'è l'applauso? Bravi, bravi. Da quest'altra parte vediamo? Vincono loro. E dal centro, dal centro? Vediamo quello totale, com'è questo applauso di Acqua viva. Oh, che belli che siete. Allora, volevo dire, vabbè, dopo faremo dei ringraziamenti particolari, però alla vostra, cioè, insomma, alla mia sinistra, alla vostra destra, c'è lo stand della Brasciola, si chiama così, no? E del Goduso. Goduso. Insomma, non lo so come si chiama. Andate lì da Arcangelo e da Giuseppe, vi offrono delle bellissime, buonissime, bracione. Sola, e gli altri ballano, mi piace farmi male, ricordare la felicità, cos'è? Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori, piove, non migliora neanche quando ci sei tu. questo blu. Grazie. Brava, Rossella, brava, che voce! Grazie, il nostro patron della serata, Nicola Gravina, buonasera! Buonasera. Ma come ritrovo bene stasera, no? Davvero, un bel ragazzo, che ne dite? Com'è il vostro concittadino, Nicola? Grazie a te, il bel ragazzo. C'è la moglie, ciao Rina. Sì. Allora, stasera, questa è una bellissima serata, per fortuna il tempo ci è clemente, eh? Ha dato una spolverata. Eh sì, devo dire che c'erano troppi tirapiedi oggi. Eh sì, bello. Tiravano l'acqua oggi. No, quelli erano quelli che vendevano gli ombrelli. Era per vendere gli ombrelli. Poi li hanno venduti e stiamo a posto. Tu non lo sai, per organizzare questa sagra labraccione, quante malelingue, quante calugne. Ma tu non li devi pensare. Ma io non li penso proprio. Tirapiedi dappertutto. Oggi c'erano in circo e mi tiravano l'acqua. Adirittura. Ho detto, e molti girati intorno. Pioverà per dieci minuti, un quarto d'ora e poi terminerà tutto. Eh, meno male, dai.